Garbatella, questa fotografia che tu regali a Fata Garbatella, venisci al denario della Garbatella e per tutto l'estero, guarda bene questa foto. Io sono con un'amica mia su questo garbatello. Come si chiama la tua amica? Si chiamava Marisa Labballeria, la chiamava Marisa Labballeria. Allora io stavo lì perché andavamo a andare a finestra, l'ha detto a quel palazzo dell'Enel dove i mamatori ci lavoravano e facendo da mangiare. Io quando mangiavo in esso c'eravo lì, venne il tedesco con una fotocicletta, con un figgio di abitudine, che ci dice, bambini non state là sopra che vi faccio la fotografia, se fatto capire te, allora gli ho detto a me, dice mettiamo un'altra, che questo ci fa la fotografia. Ed è finita lì, dopo 73 anni sono venuto in possesso di queste fotografie. Tramite uno storico della borgata del Trullo che ha conosciuto questo tedesco in Germania, nella città di Puglia.